Ah e poi questa storia degli impresentabili, io vorrei rispondervi una volta per tutti, cioè ma andate a fanculo, ma ve lo dico proprio tranquillamente, chi dice che io sono un impresentabile deve andare a fanculo, cioè ve lo dico proprio in faccia, è inutile che ci mettiamo a fare i comunicati, gli articoli e le cose, voi siete gente che vi dovete vergognare di stare al mondo, se vi consentite di dire qualcosa a me o se volete fare lezioni di moralità a me, ladri matricolati, siete dei ladri matricolati, avete ucciso il futuro della mia generazione in Campania, ci avete rubato il lavoro, ci avete rubato le case, ci avete ucciso le famiglie e chiamate impresentabile me, ma andate a fare nel culo, come state? Grazie.